La Bohème probabilmente è una delle opere più rappresentative del Verismo e del Novecento e probabilmente nell'arco della costruzione e della produzione di Puccini è la più rappresentativa perché Puccini collega senza paura, senza freni, senza riserve il sentimento alla musica. C'è una correlazione molto profonda e molto toccante. Non a caso questo sentimento diretto fa sì che vada tutto al cuore dell'ascoltatore e infatti come sappiamo la Bohème è insieme a Traviate e Barbieri di Siviglia una delle opere più eseguite nel mondo. Infatti tanti hanno definito Puccini il regista di se stesso perché scrive esattamente che tipo di connotazione devono avere i personaggi e quando Puccini vuole un ritenuto, quando vuole un sostenuto, quando vuole un forte, quando vuole un'emozione la scrive e credo che ci sia proprio un'equazione, fortissimo, grande emozione, silenzio, grande emozione ma contenuta. Sono meravigliosi, sono duttili, sono entusiasti perché loro lo fanno estemporaneamente e con grande gioia e con felicità. La qualità tecnico-artistica è veramente eccellente. Bravissima.